Ciao a tutti, bentornati. Non funziona? Non funziona, funziona. Ah, ah, sì. Eccoci qua per un'altra chiacchierata, vero? Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, intanto introduciamo velocemente il fatto, come sempre, ripetiamolo, che siamo una scuola e quindi adesso siamo qua, proprio dentro la nostra scuola. Noi siamo una scuola fisica, siamo a Verona e nella nostra scuola tutti i giorni si fanno i corsi di italiano, ecco, per chi non ci conosce magari non ha tante informazioni. In classe, a Verona. Ma andiamo con la nostra conversazione di oggi. Che sarà? Che sarà, come sempre, ah no, come sempre, come spesso ispirata da uno dei libri che usiamo di più qui a scuola, che è Dieci, di Alma Edizioni. Non ci pagano per questo, però sono dei libri fatti molto bene, che usiamo, tu li usi? Li uso sempre, sì. E quindi abbiamo preso spunto da una lista che c'è su questo volume qua, che è il volume B2, ed è... Leggi tu che non ho gli occhiali per leggere le parti esatte. Dieci cose che non mancano mai in una casa italiana. Esatto. Oh, tu le sai? Le hai viste? No, non le so tutte. Non le so tutte. In realtà non le ho so tutte. Allora, interagiamo con i nostri ascoltatori. Esatto. Secondo voi, qual è la prima cosa che non può mancare in una casa italiana? Allora, prima, mentre ne parlavamo, il primo oggetto che mi è venuto in mente, sinceramente, è lo scolapasta. Questo oggetto qua. E infatti è primo in classifica, lo scolapasta. Giuro che mi è venuto in mente perché è un oggetto che usiamo quotidianamente e quindi è quell'oggetto che si usa quando si fa la pasta per far scolare l'acqua, quindi mandare via l'acqua e tenere la pasta. Esatto. Tu ce l'hai in metallo, in acciaio o in plastica? Allora, ne ho uno, due, tre. Tre ne ho. Cavolo. Esatto. Uno in metallo, un po' più grande. Uno in plastica rotondo, grande, però con due manici. E poi ne ho uno più piccolo, con un manico solo lungo. E di solito lo uso quando mangio da sola perché con uno lo tengo e con l'altro, con l'altra mano scolo la pentola che è piccola e quindi lo uso se sono da sola. Certo. Tu quante ne hai? Io ne ho uno di plastica, molto vecchio, che quello di plastica di solito si fonde un po' quando per sbaglio lo avvicini al fuoco del fornello, no? E poi uno d'acciaio e poi ne ho uno che è di quelli incorporati con la pentola, non so se è presente. Ah, sì? No, io non ce l'ho quello. C'è la pentola dove cuoci la pasta, dove la pasta bolle e dentro, un po' più piccolo, c'è il scolapasta, esattamente della stessa forma della pentola, quindi non c'è bisogno di fare così, semplicemente tirate su. Esatto. È comodo quello, no? È comodo, è abbastanza comodo, sì. È questo qui, se volete comprarlo su Amazon. Non ci pagano. E per esempio, quando tu sei all'estero, come fai senza lo scolapaste? Come si chiama l'attore? L'attore di The Apartment, che lo fa con la racchetta, ti ricordi? Chi era? Scrivetelo qua sotto, dai. Ah, Jack Lemmon. Jack Lemmon, è vero. Grande, ecco, quella scena l'ho fatta una volta in Germania. No, non è facile sostituirlo, no? Quindi è una delle cose che a volte gli italiani, quando vanno all'estero per un periodo un po' più lungo di una vacanza e stanno in appartamento, se lo mettono in valigia. Eh sì, no, è lo scolapasta portatile. Esatto. Esatto, poi, ecco, non portatelo come bagaglio a mano, perché... No, lo mettete in testa. Esatto. Poi, tu, esatto, allora, vediamo. L'altro, beh, sempre, purtroppo mi viene sempre in mente tutte le cose, molte cose della cucina. Una è la moca. Ma dai, la moca c'è per forza. Eh. La moca c'è. Ce l'abbiamo anche qui a scuola. Esatto. Come si fa a fare il caffè senza la moca? Per me è impossibile. Impossibile. È il caffè più buono. Esatto. Il caffè più buono è quello nella moca. La moca è questa. Esatto. Sì. Tra l'altro, una delle cose interessanti è che gli italiani non ne hanno mai una sola. Tu quante ne hai? No, no, infatti, io ne ho almeno... no, due. Ah. Due, sì, una da quattro e una da due. Eh, esatto. Quando hai per il caffè della mattina, la tannica, boom, e il caffè dopo pranzo, magari, in due, così, sì, sì, sì. Io ho anche quella, si chiama la mochina, e è da mezzo bicchiere, mezza tazzina, quindi è piccolina, piccolina, sì. Mi ricordo che ho avuto in passato la moca per fare il cappuccino, che è stato un po' un fallimento della Bialetti, ricordi? Ce l'avevo anch'io. Questa qui, eccola qui, fatta come una mucca, pezzata, pezzata, veniva fuori una cosa schifosa, tremenda. Non ha funzionato, Bialetti ha cannato. Esatto. Rigorosamente Bialetti o hai qualche addormento? Bialetti, sì, Bialetti. Induzione o gas? No, gas. Ok. Gas, sì, 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 old style. Mi piace la dama, che è quella un po' più rotonda, ma in realtà no, proprio quella classica, tutta squadrata, classicissima. E anche questo, nelle case degli italiani di solito, o il manico si è fuso, oppure il pirolino sopra, si chiama pirolino, non so, se ne va, si stacca, si riconosce da quello. La mia, quella storica mia è veramente zozza proprio, è tutta marrone. Zozza e sporca. Sì. Ma deve esserlo e sappiate che non si deve lavare troppo la moca, mi raccomando, sennò perde il gusto del caffè. No detersivo e no lavastoviglie. Bravi, esatto. Nenche meno lavatrice. Esatto. Poi, non lo so, dimmene uno. Io direi... Ah, sempre la tovaglia. La tovaglia, c'è. Vero. Giusto, brava. Sì, non l'avrei mai detto, ma è vero, no, viaggiando, è vero, spesso ci si trova a mangiare sul tavolo nudo. Esatto. Giustissimo. Per noi è come non mangiare, non so, ci vuole la tovaglia, quindi quel pezzo di stoffa che copre la tavola e quindi la protegge anche da macchie di cibo che possono cadere. Che nell'immaginario collettivo la tovaglia è a scatti bianchi e rossi. Io ce l'ho così a casa. Anche mia nonna ce l'ho così. Però tu la usi? No, purtroppo. No, sì, sì, la usiamo, sì, sì, la usiamo, sì, sì. Sì, sì, ecco, in situazioni più disperate metto sopra anche la tovaglietta, quella di plastica, per non sporcare la tovaglia. Accidenti, cosa mangi? C'è multistrato. Che se non sbaglio quella rettangolare è chiamata la tovaglietta all'americana. All'americana, sì, confermate che l'avete inventata voi in America. Io devo dire che la tovaglia la uso anche quando sono da sola. Ah, sempre proprio. Quindi, sì, sì, magari la piego in due, quindi copro solo metà della tavola, però se pranzo o ceno da sola la voglio mettere perché... C'è quella di cotone o quella, non è quella sintetica? No, 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 sono di stoffa proprio. E hai anche il ferma... un altro oggetto. È vero, il ferma tovaglia. Quello ce l'ho per la tovaglia in giardino perché magari che è più leggera a volte uso quelle di carta da mangiare fuori e quindi a volte quello uso il ferma tovaglia. Mitico, mitico. Quindi tovaglia e tovagliolo, eh, comunque anche. Sì, tovaglia e tovagliolo. Tovaglia e tovagliolo, sì, 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 esatto. Poi? Poi, allora, lo avrei detto anch'io, mi era venuto in mente, la questione tende, la questione tende e tapparelle. È una cosa che in Italia noi abbiamo sempre un modo per oscurare il sole, per non fare entrare il sole nella camera da letto quando dormiamo e quando personalmente mi sono trovato all'estero, soprattutto in Germania, in Nord Europa, no, non c'era modo di proteggersi da quel poco sole che c'era. Però è bello quando sei all'estero, per esempio in situazioni come uno studentato, no, all'estero e ci sono gli studenti italiani, è bello vedere la fantasia con cui gli italiani cercano di coprire le finestre, quindi cartoni, pezzi di stoffa neri, scotch, di tutto. Pur di non fare entrare il sole, perché veramente per noi è una cosa... No, è inconcepibile. Inconcepibile. Tu quando dormi vuoi il buio assoluto tombale? Allora, dormo anche se c'è un po' di luce o qualche, dormo, però ecco, senza niente non riesco, cioè se proprio non c'è tende né niente, io al primo raggio di luce mi sveglio. No, 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 anch'io. Anche tu? Sì, sì, io di solito dormo come in una tomba, però non c'è luce. Ah, proprio tutto buio. Sì, 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 assolutamente. Io qui a Verona ho le tapparelle, quindi quelle che si tirano su e giù, devo dire che onestamente mi trovo meglio a Firenze dove abbiamo le persiane di legno. Le persiane, certo, sì, sì. Perché le persiane di legno fanno il buio, non totale, però fanno buio, ma lasciano passare l'aria. Giusto, in estate. E in estate è meglio, perché le tapparelle quando sono chiuse totalmente non lasciano passare, non lasciano passare l'aria. E quindi, ecco, in questo mi trovo un po', però buio assoluto. È vero, è vero, sì. E anche perché noi italiani abbiamo un po' paura che la gente ci guardi in casa e per questo abbiamo le tende. Gli italiani sono curiosi, si appostano lì. Invece all'estero, no? Vedi anche la gente al piano terra senza tende e vedi... A leggere tranquilli. È vero, sì. A te darebbe fastidio? Ma un po', un po', sì, sì. Ogni tanto provo a mettermi sul balcone a leggere dove la gente mi guarda così. Gli italiani non sono famosi per farsi i fatti propri. No, esatto. Ci sono altri popoli che sono più famosi. Ecco, non è proprio... E anche a fregarsene del giudizio degli altri, perché per noi è importante il giudizio degli altri. Invece c'è chi dice, io giro nudo in casa e non me ne frega nulla se i miei vicini mi guardano. Invece noi italiani no. È vero, siamo dipendenti un po' dal giudizio. Esatto. E poi qui, cosa dici? Mi viene in mente un oggetto in bagno a proposito di girare nudi. Stavo pensando... Gira che ti gira, finisci a sederti. Sul bidet. Sul bidet, ragazzi. E qui, discussioni, seminari, corsi monografici. Ragazzi, il bidet per noi purtroppo è fondamentale nei bagni. Ho un sacco di amici che si sono trasferiti all'estero, che so solo sono portato, finto, ricostumato. Che hanno cercato di portarlo in tutti i modi, perché per noi è fondamentale. Fondamentale. C'è gente che viene a vivere in Italia apposta per il bidet. Ed è un dramma per noi quando andiamo all'estero. È impossibile. È un dramma. Ragazzi, è impossibile. È un oggetto che usiamo per lavare le nostre parti intime e purtroppo per noi è fondamentale. Sì, lì si apre il dibattito. Esatto. Dai, potete scrivere quello che volete. Allora, votate se volete che Giacomo faccia un video sull'uso del bidet, un tutorial. Ecco, quindi il bidet è fondamentale. Parlateci del vostro rapporto con il bidet, se quando siete venuti in Italia lo avete usato. Eh, eh, eh. Poi. Ah, vedo. Ah, giusto, giusto, sì, sì, sì. Un altro oggetto. Un altro oggetto fondamentale che è proprio la grattugia. Eh, questo non può mancare in Italia, dai, c'è sempre la grattugia. C'è la grattugia manuale o la grattugia elettrica, ma la grattugia manuale, secondo me, è quella che è ancora più popolare. Ma tu dici quella manuale che ha il formaggio in una mano e la grattugia nell'altra. Sì, sì, sì. Perché io ne ho anche una manuale dove metti il formaggio dentro e giri e esce il, quindi è un po' tipo un macinino. Sì, sì, sì. Oppure quella elettrica che fa il formaggio. Quando ero bambino, di solito in Italia, quando sei bambini e si apparecchia la tavola, c'è sempre la suddivisione dei compiti, no? Sì. C'è il tipo che deve apparecchiare la tavola e c'è il figlio che deve grattugiare, che è un po' una rottura di balle, no? Sì, sì, anche perché a me va sempre il formaggio dappertutto, cioè l'odio grattugiare. Sì, sì, sì. E poi è arrivata quella grattugia elettrica dove mettevi il pezzettino di parmigiano, però non avevo avuto molta fortuna. No, no. No. Tra l'altro esistono due tipi, ce n'è una molto più semplice oppure una fatta tipo torre, no? Ah, giusto. E hai dei tipi diversi di modo di grattugiare, quindi quello classico che fa il formaggio molto molto sottile oppure l'altro che fa le scaglie. Le scaglie, sì. E quello si può usare in realtà anche per altre cose, per esempio io la uso per gli zucchini, per le carote, quando le voglio fare sottili a pezzettini, sottili a strisce, sottili a julienne. Sì, sì. Quindi, e poi dal lavare è sempre un casino. Poi sbagli il verso e ti accoltelli, ti grattugi le dita. Esatto. Pericolosissima. Però la grattugia non manca. No, 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 dai. Non può mancare, non può mancare. Non ci leggo bene. Questo, beh, questo mi sembra strano, sì. Il ferro da stiro. Beh, ragazzi, secondo me, ma... Fateci sapere se ce l'avete voi in casa, perché io penso sia una cosa abbastanza normale, no? Beh, sì. Cioè, voi stirate i vestiti? No? Sì, boh. Avete il ferro verticale, avete il ferro orizzontale, la vaporella. Io la vaporella, tu? Ah, che bello. No, io c'ho il ferro normale. Ah, normale. La vaporella. E anche il ferro verticale, in situazioni last minute. Ah, quella è col vapore? Disperate, sì, sì. Metti il vestito così, lo stendi e giù. Bello. Sì, non serve a niente, non fa... Non funziona. Non fa una mazza. No, se hai un negozio di vestiti, allora sì. Eh, sì, esatto. No, questo mi sembra strano, perché non credo sia un oggetto solo italiano. No, no, infatti, no, dai, l'ho sempre parlato. Nel senso, anche in Italia c'è chi non stira, eh? E quindi è un'idea, una corrente di pensiero. Però, secondo me, se uno stira, il ferro ce l'ha, perché che cosa usa se no? No, infatti, sì. Poi tendiamo a stirare sempre meno, perché adesso ci sono tutti questi capi di abbigliamento no iron, tipo questi nomi, stiro facile. Esatto, esatto. Ecco, quindi il camice... Cioè, io sogno il giorno in cui nessuno avrà il ferro da stiro, così non dovrò stirare, però, secondo me, ancora è lontano quel giorno. È lontano, è lontano, sì. Sì. Un altro che mi sembra strano è questo. Allora, il cavatappi, in realtà... Per aprire le bottiglie. Vero, sì, perché sapete che ci sono... Tra l'altro, questo, cavatappi, è un design italiano, mi pare, sì, vero? È vero. Che ha un nome e adesso, purtroppo, non ci siamo preparati. Scrivetelo sotto voi. Ecco, comunque, quello c'è sempre, di solito. È quello con le aline. Esatto. Non è molto pratico, secondo me. No, mamma mia, no, anche secondo me si spacca subito il tappo. E anche, diciamo che gli... no, gli chauffeur, gli... I sommelier. I sommelier non lo usano. I sommelier usano di solito questo. Esatto. Questo tipo di cavatappi che ha il coltellino e quindi puoi fare tutto... Come si dice con quell'altro, ti fa così e rischi che ti entri la trivella nel cervello. Poi è scomodo, come ti aggira, abbassa le braccia. Esatto, non vedi cosa stai bucando perché è proprio un oggetto di design. Come tutti gli oggetti di design, sono scomodi. Esatto, belli ma non utili. A parte la moca. Cava tappi si chiama quello per le bottiglie di vino, invece quello per i tappi a corona delle birre come lo chiameresti? Apri bottiglia. Apri bottiglia, vero? Sì, sì, l'apri bottiglia, cava tappi e... Potremmo fare un video sui nomi composti. Ah, sì. Apri bottiglia, cava tappi e apriscatole. E scola pasta. Perché stavo pensando, forse il cava tappi lo mette perché effettivamente diciamo che il vino è un po' più comune berlo in Italia rispetto... Cioè, magari in Italia c'è il vino un po' tutti i giorni, il classico vino da tavola. All'estero magari il vino si beve più nell'occasione. Ci sta, ci sta. Ecco, non so se è per questo, ma insomma, penso ormai il cava tappi ce l'abbiano tutti. Sì, ci sta. Forse una ventina, trentina d'anni fa no, ma adesso... Mi è venuto in mente che una studentessa mi ha regalato il cava tappi elettrico. Ecco, forse... Sì, adesso... Forse a casa ce l'ho ancora. Ma si mette sopra la bottiglia e premendo un tasto va giù e poi... Ero un cava tappi, giusto? Non te lo stai usando, diciamo, funziona. No, penso di sì. Penso di sì. Però era elettrico, mai visto in Italia. No, veramente. No. Ce n'è un altro, sì, non era elettrico, ma meccanico strano sempre, che copre tutto il collo della bottiglia. Insomma, è una roba che fa tutto da solo, premi e fa... Però non l'ho mai usato. No. No, no, no. Io uso quello da sommelier, diciamo. Ok. Sì. Anche perché poi il cava tappi, quello la donnina, lo chiameremo così, ma il nome reale chissà qual è, ha anche il fatto che anche quando lo usi come apri bottiglie, la punta gira. Esatto. È un po' scomodo. È scomodissimo quello, è vero. Sì, sì. Perché è la testa della vite e quindi non fai forza. Ti fai male. Abbiamo bocciato la donnina. La donnina. Il designer che ha fatto questo è sicuramente morto, quindi non... Quindi non ci denuncia. Adesso sono vivo, si scrive. Maledetti. Allora, vediamo se li abbiamo detti tutti. Scolapasta. Lo scolapasta. Il cavatappi. La grattugia per il parmigiano. Ah, questa no. Una bottiglia di olio extravergine di oliva. Ah, beh, sì. Beh, sì. Quello sì. Perché molti hanno il burro, dici. O comunque, forse lo usano per cucinare, ma non è sulla... Non lo so, però diciamo che è vero. Anch'io quando, per esempio, ho abitato in Germania, mi sono portata l'olio italiano dietro. Sì. Ah, la latta. La latta di olio perché... Ok. Sì, non mi fidavo. Sì, beh, effettivamente. Comprare l'olio... Sì. Sì, diciamo che forse è quell'oggetto. Magari uno all'estero ce l'ha. Però non è così fondamentale e sempre presente. Cioè, io sono convinta che in tutte le case italiane c'è l'olio. Sì, quello sicuramente. Sì, cioè, quindi ecco, magari all'estero non proprio tutte e tutte. Sì, 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 sì. Assolutamente. Poi cosa non avevamo detto? Ah, io avevo pensato una cosa che qui ditemelo voi. L'accappatoio. Ah, l'accappatoio. L'accappatoio che è questo, ting, e che noi usiamo dopo la doccia, quindi quella specie di giacca ma lunga, fatta di spugna, quindi lo stesso materiale degli asciugamani. Spesso ha il cappuccio, una cintura che si lega in vita e serve per asciugarsi. È vero. Alcuni lo usano come vestaglia, invece la vestaglia è un'altra cosa. È simile, ma la vestaglia è un materiale che non asciuga e si usa di solito la mattina quando ci si alza o la sera prima di andare a letto, sopra il pigiama. Invece l'accappatoio è proprio per asciugarsi dopo la doccia o dopo il bagno. E alcuni studenti, per esperienza parlandone, mi hanno detto, no, non lo conosco, io uso un telo, quindi un asciugamano. Sì, 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 sì. Cosa pensi? No, è vero, sì, a meno che tu non vada in una spa dove magari quando sei nelle spa all'estero c'è la cappatoietta. Ma anche all'estero nelle spa? Ma mi pare di sì, boh, forse mi confondo. Non mi ricordo. Eh, non lo so, secondo me. Non ci ho fatto caso. Eh, quindi fatecelo sapere perché mi interessa questa cosa, perché io lo uso assolutamente. Ah, anch'io tutti i giorni, sì, il cappatoio è fondamentale. Sì, specie d'inverno quando è freddo, mi piace mettermelo e a volte prima, mentre faccio la doccia lo tengo sul termosifone, esatto, così quando lo metto è caldo. E poi, aspetta, questo era un altro oggetto che era venuto fuori. Sì, non ci viene in mente nient'altro. No, esatto. Ecco, magari se voi avete trovato degli oggetti in Italia che nel vostro paese non esistono, scrivetelo qui sotto. Esatto. Io per esempio ho scoperto per la prima volta il bollitore in Germania, vent'anni fa, adesso ce l'abbiamo tutti. Adesso è comune, ma prima anch'io non lo conoscevo, si scaldava l'acqua. Ah sì. Ok. Bene, li rileggiamo un attimo? Sì, vai. Allora, lo scolapasta, il cavatappi, la grattugia per il parmigiano, una bottiglia di olio extravergine, la moca per fare il caffè, la tovaglia, il bidet, le tende, il ferro da stiro e persiane o tapparelle. Esatto. In più abbiamo detto l'accappatoio dopo la doccia. Giusto, l'accappatoio. E che altro? Basta. Fateci sapere cosa ne pensate, se voi avete degli oggetti che non conoscevate, fra questi che abbiamo elencato, se avete altre idee che ci interessano, come sempre, e niente. Sì, mi sto guardando intorno, ma no, qui non c'è niente che non ci sia anche all'estero. Esatto. E ecco, allora noi ci vediamo per la prossima chiacchierata. Chiacchierata. Esatto. Grazie a tutti, come sempre, di fare like, di sottoscrivere il nostro canale, di scriverci i commenti, di offrirci un caffè, veramente super super grazie a tutti voi che lo fate, perché così ci permettete di continuare con questi video. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!